Ennesima rapina ieri sera alla farmacia Don Bosco di Piazza Vittorio Veneto del dottor Aldo Pia, presidente della Cassa di Risparmio di Asti. Un bandito solitario, alto e magro, è entrato in farmacia verso l'ora di chiusura a viso scoperto ed armato di taglierino. All'intimidazione di consegnare l'incasso, uno dei farmacisti, il dottor Luigi Miglia, ha reagito cercando di allontanare il malvivente. Ne è nata una collutazione, il bandito ha però avuto la meglio ed il farmacista ha dovuto ricorrere alle cure dei medici del pronto soccorso per aver riportato un taglio alla mano destra. Il malvivente, arraffate le banconote per circa 2000 euro, è poi fuggito a piedi. Anche l'anno scorso un bandito solitario era stato affrontato dal dottor Miglia che insieme al titolare Aldo Pia era riuscito a smascherare il malvivente armato di una pistola. giocattolo. Questa volta invece ha prevalso il malvivente. E un mistero avvolge il ritrovamento da parte della polizia ieri sera alla stazione ferroviaria di una valigia piena di coltelli, arnesi, atti allo scasso, due pistole giocattolo, taglierini e pugnali di vari tipi trasportati da un viaggiatore torinese. L'uomo di 45 anni incensurato è stato notato e bloccato perché con un paio di manette in uso alla polizia aveva assicurato la valigia ad una panchina. Il torinese si è però avvalso della facoltà di non rispondere. L'unico indizio per ora è che era arrivato poco prima con un treno da Torino ed aveva il biglietto di solo ondata qui ad Asti. Mentre proseguono gli accertamenti l'uomo è stato denunciato alla magistratura per porto ingiustificato di armi ed oggetti atti allo scasso. Ed in questi giorni è molto vivace il dibattito sulle energie rinnovabili ed in particolare sulle numerose richieste approdate ai comuni dell'Astigiano per la realizzazione di mega impianti fotovoltaici a terra. Le preoccupazioni riguardano soprattutto l'utilizzo dei terreni agricoli e l'impatto ambientale come ha sottolineato in un'interrogazione parlamentare il deputato Massimo Fiorio. Sentiamo. Il fotovoltaico è una grande occasione di rilancio anche di contrasto alla dipendenza che abbiamo dal petrolio. Però siamo convinti che debba essere regolarmentato, normato perché in questo momento ci sono in atto o rischiano di essere in atto delle speculazioni. Ci sono molte società che si propongono nei comuni per la pose di impianti a terra. Questi impianti anche di grosse dimensioni vengono collocati su terreni agricoli con un valore magari anche importante. Sono impianti che hanno la durata per contatto di 20 anni e quindi per 20 anni quei terreni rischiano di essere più utilizzati per il loro destino che quello agricolo. Sono aziende che non praticano agricoltura e quindi ci chiediamo soltanto quanto sia lecito muoversi in una situazione senza regole. Chiediamo che il governo metta una parola chiara e dia soprattutto delle condizioni chiare ai comuni che sono sottoposti a queste richieste. Chiudiamo velocemente con le immagini di sabato pomeriggio al campo scuola di Via Gerbi dove si è svolta la festa del calcio giovanile. Hanno sfilato ben 1040 giovani calciatori in rappresentanza di tutte le società sportive dell'Astigiano, dai più piccolini delle scuole calcio ai pulcini agli esordienti fino agli allievi che proprio in questi giorni hanno terminato i campionati. Una bella festa alla presenza del presidente provinciale della federazione calcio, di quello del CONI, del vice presidente della provincia di Asti e dell'assessore comunale allo sport. Nel frattempo è stata annunciata per il prossimo 6 giugno la festa del CONI con tutti gli sport rappresentati che si terrà a Villanova d'Asti per quanto riguarda i comuni del nord astigiano e a Costigliole d'Asti per quanto riguarda le società del sud della provincia. Da sottolineare nel corso della festa provinciale del calcio giovanile di sabato una raccolta fondi per la famiglia del dirigente dell'Unione sportiva Costigliole Giuseppe Schellino scomparso prematuramente e tragicamente in un incidente stradale il 22 aprile scorso. E con questo da Asti abbiamo concluso. Grazie per averci seguito. La linea torna allo studio.